Ok Stefano, guarda, io davvero non so come ringraziarti, chiudo solo rinnovando l'invito a leggere non solo Vado a Vivere a New York, che ripeto è la Bibbia per gli appassionati di New York, ma anche tutti gli altri tuoi libri perché c'è, mi sembra, quello sull'antracce. I libri si trovano fra l'altro in Italia sul New York City Site, che è il vostro sito, per cui è molto pratico, voglio dire, andate lì, fra l'altro il mio libro, dovrei dirlo, è il primo venduto tra gli oggetti del sito, Per lo meno fino a due o tre giorni fa lo era, per cui dovete notarlo, perché tra l'altro ringrazio gli amici di New York City Site perché fanno sempre pubblicità al libro, fra l'altro adesso collaboreremo per delle nuove cose che non posso ancora annunciare, però stiamo collaborando per altre cose, per cui ci siamo fidanzati anche noi fra i due siti. Allora intanto, visto che hai questi rapporti con New York City Site, devi sapere che noi il 7 luglio facciamo un aperitivo alla sede del New York City Site qui a New York e poi andiamo a farci una pizzata, ovviamente se hai tempo e voglia, naturalmente sei invitatissimo. Io ti ringrazio anche per un altro motivo, che ho scoperto oggi, io ho sempre visto uno Stefano Spadoni un po' tenebroso sul sito internet, oggi ho scoperto un altro Stefano Spadoni, credimi, un altro Stefano Spadoni molto più aperto, forse anche col passare del tempo in questa chiacchierata che abbiamo fatto, ho visto veramente un altro Stefano Spadoni, mi ha veramente fatto bene. Sai, durante anche il Big Apple Review purtroppo ho avuto a che fare con la guerra in Iraq, che tra l'altro sono molto felice perché tra l'altro proprio ieri c'è stata l'ufficializzazione che l'Iraq è un paese indipendente, non c'erano neanche più le truppe americane nelle città, per cui in un certo senso è finita bene, avevo molti dubbi che finisse bene alla fine, ma comunque ho sempre tenuto per la parte degli iracheni della loro liberazione, perché l'ho vissuta un po' come la liberazione dell'Italia secondo me, con poi tutti i problemi che l'Italia ha avuto anche nel dopoguerra, perché l'Italia è andata vicino a una guerra civile, se non fosse stata con la famosa attentata Togliati, ho studiato un pochettino di storia per il parallelo fra Italia e Iraq, e effettivamente sono state due cose molto simili, per cui in Iraq quello che è mancato sono stati partigiani, anche perché non c'è stato probabilmente il tempo, ma se vogliamo gli sciti della parte che si erano liberati, liberati prima Saddam, in un certo senso sono molto contento che l'Iraq sia un paese democratico, penso che noi tutti quanti dovremmo essere felici quando un nuovo paese democratico si aggiunge di altri paesi, purtroppo penso che invece adesso il mondo andrà al contrario, di questo ne parleremo alle prossime interviste. È una cosa molto brutta quella che sta avvenendo comunque. Va bene Stefano, io ti ringrazio veramente tantissimo, sto leggendo anche un po' la chat dei nostri utenti, anche loro vedo che sono entusiasti di questa cosa, ti ringraziano anche loro ovviamente, ti ringrazio tantissimo a livello personale, anche per tutte le informazioni che ci hai dato e questa tua visione su New York. Grazie tanto e adesso mando la sigla di chiusura, ma non andate via perché poi dirò ancora un paio di cose. Grazie ancora. Grazie a te. Grazie a te.